oggi video veramente breve siamo nel mio orto lo sto mettendo a punto sono un po' in ritardo ci focalizziamo soltanto sui pomodori vi faccio vedere un po' quello che sto facendo quest'anno ho aggiunto un elemento nuovo che sono i legumi tra un pomodoro e l'altro e vi faccio vedere un po' l'importanza dei fiori eventualmente dei legumi ma di questo ve ne parlerò poi in un altro video come ho messo a dimora i pomodori e cosa ho messo tra un pomodoro e l'altro per aiutare i pomodori stessi per aiutare gli impollinatori ve ne parlo dopo la sigla rieccoci sul canale bentornati a tutti sono orso allora questa è una delle mie prode di pomodori anche quest'anno cercherò di mettere di mora in un 100 120 piante ecco guardate mi sposto un attimino queste sono le prime che ho messo circa dieci giorni fa che devo ancora legare e contemporaneamente volevo soffermarmi su ciò che ho messo tra un pomodoro e l'altro questo sistema l'utilizzo già da qualche anno e in particolar modo vi parlo del taggete taggete eccezionale perché questa pianta ha due anni d'inverno tende a seccarsi in realtà se l'inverno non è troppo rigido lei sopravvive e in primavera esplode questa non l'ho più toccata guardate cosa è diventato un cespuglio quindi ho acquistato altre venti piantini di taggete perché non sono riuscito a fare di mio e le sto mettendo una ogni 5 6 pomodori però quello che vi volevo far vedere è ciò che si può mettere tra un pomodoro e l'altro ad esempio siamo qui qui ho una distanza tra un pomodoro e l'altro di circa 45 centimetri che è il minimo sindacale per poter mettere i pomodori allora io negli anni ho provato dai 40 agli 80 centimetri il top sono 60 centimetri e l'ho fatto su un paio di prode qui ho gli ugelli a 20 centimetri quindi ne ho saltato uno insomma sono intorno ai 40 45 centimetri che come vi dicevo è la distanza minima tra un pomodoro e l'altro poi se sono troppo vigorose cominciano a soffrire cosa si può mettere tra un pomodoro e l'altro e qui introduciamo il discorso della consociazione qui vedete ho messo del basilico il basilico secondo me è una delle erbe aromatiche che meglio crescono tra i pomodori lasciano un profumo che dà fastidio ad alcuni insetti insetti dannosi per i pomodori e contemporaneamente godono dell'ombra del pomodoro adulto quindi loro non devono stare al sole tutto il giorno e gli basta qualche ora dove non ho messo il basilico ho messo il taggete come vi dicevo il taggete ha la proprietà di tenere lontano alcuni animatori del terreno nocivi per i pomodori e contemporaneamente attira gli impollinatori ci servono anche quelli quest'anno ho introdotto anche i legumi ho seminato dei fagioli vediamo come va ma non pago di questo tra un ugello e l'altro per non lasciare gli ugelli vuoti perché mi dispiaceva ho messo della lattuga vari tipi di lattughe anche questa è una consociazione vincente perché la lattuga non ama il sole tutto il giorno ovviamente e quando le piante saranno grandi gli faranno l'ombra contemporaneamente utilizzerò l'ugello vedete l'irrigazione a goccia vi lascio qui la copertina su come montarlo e quindi non spreco acqua e questa è la cosa più importante l'ultima cosa di cui vi volevo parlare ma brevemente perché venne già parlato lo scorso anno è la faccia natura vedete avendo poca acqua e facendo uno strato di 10 15 centimetri di paglia l'umidità rimane molto più lungo nel terreno quindi posso dare meno acqua per meno tempo allora tenete conto che io qui col mio terreno in estate col caldo torrido io irrigo 20 minuti al giorno non di più e le piante vengono su che uno spettacolo lo scorso anno raccolto pomodori fino a novembre ora ci spostiamo vi faccio vedere materialmente come metto dimora i pomodori e come metto dimora sia il basilico che il taggete dopodiché ci salutiamo ecco vedete sono qui in una proda che sto facendo in questo istante una piccola premessa prima avete visto che in quella proda avevo messo anche la rete per i legumi è un test che sto facendo voglio vedere come crescono i pomodori anche bloccandoli sulla rete e dietro c'è sempre fil di ferro ovviamente qui invece la rete non c'è c'è soltanto il fil di ferro mano a mano che cresceranno metterò nuovi fili allora vedete qui ho un intervallo tra un gocciolatore e l'altro di circa 35 centimetri 40 centimetri quindi mi azzardo a mettere un pomodoro per ogni gocciolatore però io contemporaneamente voglio mettere anche i fiori ecco qua guardate guardate cosa abbiamo qui trovato di fiori dal vivaio ovviamente li ho pagati poco li ho presi tutti i taggetti ovviamente qualcosa già messo lì ora in questa proda qua come facciamo se abbiamo soltanto un ugello e non dobbiamo saltare il punto di irrigazione qui abbiamo varie scelte o saltiamo la messa di mora del pomodoro mettiamo qualcos'altro mettiamo il basilico il taggete mettiamoli la lattuga oppure qui voglio fare una coltivazione più intensiva perché io tra una proda e l'altra faccio cose diverse perché poi a fine dell'anno voglio capire quello che mi ha reso di più e quello che ha avuto più problemi così l'anno dopo ho un metro di paragone allora io qui metterò sia il pomodoro che il basilico tenete conto che il basilico andrà in fiore nel giro di pochissime settimane quindi dovrò sempre lavorare vicino e mi viene anche comodo perché proprio vicino c'è il pomodoro che anch'esso dovrà essere poi sfeminellato tolta la vegetazione basale quindi a me non dà problemi che siano vicino le due piante qualche piccolo problema lo potrebbe dare se metto il taggete perché questa col tempo verrà più grande ma non mi interessa perché a fine stagione io taglierò reciderò il pomodoro la radice rimarrà nel terreno e questo farà la sua vita tenete conto anche che io sto coltivando dentro il compost questa avevo già parlato di scorsi anni è una coltivazione che si chiamano dig in pratica io non ho arato il terreno non l'ho toccato non l'ho fresato sotto c'è proprio il terreno con l'erba e sopra c'è questo accumulo di compost di un 15 centimetri quindi semplicemente per me è comodo faccio in foro con le mani prendo il mio bel pomodoro questo caso sono due le devo dividere qui ci mettiamo il brandy wine nel piano le dividiamo vado in fondo copro bene sono più o meno altezza dell'ugello tolgo la vegetazione che tocca a terra tolgo eventuali femminili che in questo momento non ho qui posso metterci qualcos'altro io ci metterò il suo bel taggete ecco qua questo adesso lo legherò quindi come vedete questa postazione è fatta abbiamo quella lì ora vi faccio vedere un'altra combinazione ok siamo nell'ultima combinazione in realtà la penultima perché potremmo mettere anche la lattuga allora mettiamo il nostro bel pomodoro questo è doppio questo è piccolino lo lascia attaccato qui se ne è rotto uno lo tolgo purtroppo può capitare anche quello ecco ci mettiamo vicino all'ugello foglia che tocca a terra lo tolgo qui metterò del basilico questo lo avevo già ripicchettato dai vasi che si acquistano e ha preso abbastanza bene vedete stava soffrendo poverino ecco qui già sta cominciando a godere dell'ombra del pomodoro siamo ancora con le piantine piccole quindi qua come avete visto abbiamo pomodoro basilico pomodoro taggete pomodoro da solo e lì poi aggiungerò qualcos'altro in base alla mia disponibilità generalmente io metto o lattuga oppure appunto il basilico il basilico vi lascio qui insomma impressione la copertina del video che ho fatto lo scorso anno periodicamente lui vuole andare a fiore perché si deve riprodurre quindi noi periodicamente fiori li dobbiamo staccare e lui continuerà a produrre foglie alla fine della stagione quando avremo un bel cespuglietto di basilico lo possiamo raccogliere perché tanto l'inverno non lo passa e ci possiamo fare il pesto possiamo congelarlo possiamo fare mille cose bene tutto per questo video ovviamente qui manca soltanto la pacciamatura devo ancora terminare di mettere bene il tubo di irrigazione insomma è un work in progress e c'è tanto da fare voglio solo farvi vedere un po cosa si può mettere vicino al pomodoro durante il trapianto in pieno campo detto questo vi saluto vi ringrazio per essere stati con me lasciate un like se vi fa piacere se non vi costa sacrificio volete iscrivervi al canale io vi ringrazio perché a voi non costa niente gratuito ovviamente ma a me serve per capire che sto facendo cose a voi utili e non solo voi e quindi andare avanti un po per la mia strada se vedo che non ho riscontri allora magari cambio argomento quindi lasciate un like iscrivetevi cliccate sulla campanella così vi arrivano le notifiche di quando pubblico video vi auguro una buona giornata